Sono cinque i nuovi positivi rilevati tra i 481 tamponi processati nelle ultime ore, così come riportato dall'ultimo bollettino diramato dall'azienda sanitaria locale. Sale dunque a 139 il numero dei contagiati attualmente trattati, di cui quattro ricoverati al Cardarelli. Solo uno è ancora in terapia intensiva, mentre gli altri tre sono nel reparto di malattie infettive, dove tra i nuovi contagiati è arrivato un paziente pakistano residente a Sant'Arpino, in provincia di Caserta, mentre è stata dimessa una paziente di Campobasso. Dei nuovi positivi due sono di Campobasso, uno di Ferrazzano, rientrato dalla Spagna, ancora un contagio allarino del cluster noto. Da segnalare, anche quattro persone guarite, una a Termoli e tre di Campobasso, di queste una del cluster della Grecia, una del cluster di Campodipietra e una del Gemelli. Il numero complessivo dei guariti sale così a 470. Intanto, il presidente della Regione Toma e l'assessore al personale Pallante hanno incontrato i rappresentanti sindacali del personale per un confronto sull'organizzazione del lavoro legato all'emergenza Covid. Acquisite le osservazioni dei sindacati su alcune criticità, sono state condivise le procedure per un'ulteriore definizione delle attività nel rispetto dei parametri previsti.